La situazione meteorologica sull'Europa vede la presenza di due anticicloni, uno sul Regno Unito e uno sul Mediterraneo centrale, e due depressioni, una sulla penisola iberica e un'altra sull'Europa orientale. La nostra zona si trova nel mezzo e quindi beneficiarà di tempo stabile, anche se via via più umido negli strati medio-bassi a partire da domenica. Per sabato prevediamo cielo in genere sereno su tutta la regione, salvo temporanea e molto modesta nuvolosità sulle prealpi. Le temperature caratterizzeranno ancora una forte escursione termica, quindi valori intorno ai 2-5 gradi le minime in pianura, intorno ai 6-9 sulla costa, massime fino ai 17 gradi in pianura, intorno ai 14-15 sulla costa, dove avremo venti a regime di brezza. Zero termico, 2000 metri in montagna. Domenica sarà una giornata caratterizzata in prevenza a cielo poco nuvoloso su bassa pianura costa e sulla fascia alpina, mentre sulle prealpi in Carnia e sull'alta pianura avremo maggiore nuvolosità, specialmente nel pomeriggio, un po' di inversione termica o qualche cumulo si formerà su queste zone. Per un contesto di cielo in genere variabile o il più nuvoloso. Temperature in lievamento le minime, intorno ai 5-6 gradi sulla pianura, intorno agli 8-10 gradi sulla costa, massime 16 gradi in pianura, 13 lungo la costa. Zero termico, scende leggermente a 1700-1800 metri in montagna, ma sostanzialmente non cambiano le temperature. Qualche immersione termica sempre presente di notte nei fondovalle. Tempo simile anche lunedì, forse con qualche nube in più, e un peggioramento possibile martedì con delle piogge, anche bora forte la sera sulla costa. Attendibilità di questa previsione però rimane ancora piuttosto bassa. E dall'osservatorio di meteo dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.